Le previsioni dei giorni scorsi sul probabile stravolgimento della formazione titolare del Catania per il match di stasera contro la Virtus Francavilla prendono corpo sempre di più. Andrà sotto il medito infatti di rivoluzionare l'undici che scenderà in campo dal primo minuto e che dalle 20 e 30 calcherà il rettangolo di gioco del Massimino per affrontare i pugliesi. Il sistema di gioco dovrebbe comunque essere invariato perché il 4-2-3-1 pare sempre quello più congeniale alla rosa etnea. Uno dei dubbi principali riguarda l'estremo difensore rossazzurro perché dopo la papera di Biscei è Pisseri in discussione. Sembra comunque possibile che venga confermato ancora una volta tra i pali ma Polidori resta pronto in caso di sorprese dell'ultima ora. Nel quartetto difensivo dovrebbero cambiare gli interpreti sulle fasce con Calapai e Barai al posto di Ciancio e Scaia mentre al centro Ai e Silvestri vanno verso la conferma. Sempre tre giocatori per due maglie disponibili nel duo di centrocampo dove si valuterà fino all'ultimo se schierare capitani viaggianti dall'inizio dopo la nascita della sua secondogenita. Con Bucolo e Giuseppe Rizzo comunque abili e arrolabili. Sulla tre quarti invece Brodice e Manet sono i favoriti assoluti per spalleggiare Lodi anche se lo stesso numero 10 non è più sicuro del posto come un tempo. Mentre Curiale guiderà l'attacco ma andando in panchina marotta. Presupposti ambientali comunque tutt'altro che esaltanti per la sfida contro la Virtus Francavilla anche per via del ritrovamento della testa di Maiale con tanto di messaggi intimidatori a Pietro Lomonaco rimenuta ieri al Massimino. In ogni caso neanche la società pugliese vive un momento facile perché nelle scorse ore è arrivata la risoluzione consensuale con il vecchio responsabile dell'area tecnica e direttore generale che porta però a ricordare che il Bisceglie domenica ha affrontato il Catania senza allenatore vincendo comunque la partita. Grazie 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 Grazie